Sbagliato secondo me che un Presidente del Consiglio in carica dica una cosa simile, lo può dire a un esponente politico che non ha la responsabilità del governo, vero che siccome l'economia sta andando peggio delle previsioni del governo su cui è stata fatta la finanziaria, è probabilmente vero che bisogna rimetterci mano, ma un Presidente del Consiglio non può dire se non votatemi allora c'è la manovra che arriva, santo il Dio.